Bentornati al podcast Risplendenti nell'Oscurità, representation of Paolo e Francesca Slov. Hanno raccontato l'amore tormentato di Paolo e Francesca con il loro sguardo di giovani attraverso un podcast, lavoro che ha permesso loro di vincere il concorso regionale promosso dalla società Dante Ligieri di Firenze in collaborazione con l'Accademia della Crusca, protagonisti del progetto battezzato Risplendenti nell'Oscurità, gli studenti della terza C del linguistico del Pacini di Pistoia. Il titolo Risplendenti nell'Oscurità secondo noi racchiude il contrasto fra l'amore di Paolo e Francesca e le tenebre dell'inferno. Il concorso ha visto gli studenti pistoiesi primeggiare su decine di scuole della Toscana, chiamate anche loro a riflettere sulle parole delle emozioni e dei sentimenti di Dante. Cosa vi avvicina come giovani alle passioni e ai sentimenti dei protagonisti di questa storia? La nostra età soprattutto perché è l'età dei primi amori possiamo dire e quindi è un sentimento a cui ci sentiamo molto vicini. Ragazzi e ragazze della terza C hanno così scelto di tradurre il loro studio in forma di podcast. Si divide in cinque puntate principali, una puntata di introduzione e quattro dove sviluppiamo l'argomento. Abbiamo deciso di utilizzare questa forma proprio per superare la tipica lezione italiana tradizionale, per esplorare anche questo nuovo metodo innovativo che si sta diffondendo molto nella nostra generazione. Da racconto audio su più puntate che con una sezione in inglese legata alla traduzione di Byron dell'episodio dedicato ai due amanti ha avuto come perno alcune parole chiave. Talento, amore e affetto, disio libiso e lussuria. Queste parole rappresentano il sentimento amoroso e lussurioso che troviamo nel canto quinto dell'Inferno di Dante. Sono quelli che racchiudono più o meno tutti i sentimenti e le emozioni che possiamo trovare all'interno della commedia. Abbiamo voluto aggiungere una parte in inglese per dare importanza e per rendere Dante noto come un personaggio che ha globalizzato non soltanto la letteratura italiana ma la letteratura di tantissimi paesi. In questo modo siamo riusciti come una squadra a portare avanti un progetto comune che ci ha portato a un risultato molto buono e quindi sono contenta. Ho visto i ragazzi che si sono entusiasmati, appassionati a questo lavoro anche in lingua inglese e quindi per me è un grande risultato come inseggiante, come docente.